Buongiorno a tutti, siamo nella base antincendio di Borghetto di Vara, base della forestale. Sono Alessandro, il pilota di questo elicottero della regione Liguria, l'elicottero è un Sierra Alfa 315 Lama, quest'anno abbiamo fatto una ventina di interventi in questa zona, prelevando acqua sia in mare che nei fiumi adiacenti alla Val di Vara. Si utilizza questo tipo di elicottero che è di costruzione francese con questo sistema di pescaggio dell'acqua che è Bambi Bucket di produzione canadese, è un cestello che tiene sugli 800 litri di acqua a pieno carico, si può utilizzare in due modi, o immergendo completamente questo secchio, chiamiamolo secchio, se la profondità dell'acqua lo consente, oppure utilizzando una pompa esterna da cui si riesce ad aspirare l'acqua e caricare il cestello fino all'orlo. Se basta, si! E devi tirarla su, così, per far sicurezza. Fai la lunghezza. Prendiamo quella lì di campione. Prendiamo quella lì di campione. di appare con ilitore del bottle. Grazie a tutti. Grazie a tutti.